Ciao fiorellini, ciao fiorelline, oggi piove un macello, i capelli che ci ho preso pure l'acqua. Facciamo un video spesa di Eurospin, risparmio casa e Conald, tutto il cepe. Via la sigla! Iniziamo con il risparmio casa e ho comprato come era scordata la paia, perché io questa la uso sia per l'inseparabile, sia per i gricelli, sia per il porcellino d'India e sia per il coniglio, quando gli pulisco la tabbia. Poi ho trovato questo qua che dice che fa tanto profumo sui panni quando li lavi. Poi il coniglio, l'ho comprato uno a terni, perché qua non ce l'avevano, oggi ho trovato che ce l'avevano e l'ho comprato un altro pacco, così c'ha due pacchi e questo ho speso 8,22 euro. Poi, questo è di Rachele, di sfogno casa, l'ho comprato, lo scottex, i semi per uccellini, i pappagallini, i cucoliti, diciamo cucoliti e i diamantini e ha speso 8,41 euro. Ok, mettiamo qua dentro tutto, mettiamo qua. Questo è Euro Spin, sempre Rachele, si è comprata il sushi. E qua dentro stanno i pacchetti, eh? Perché voglio assaggiare. Eh, chi? Perché voglio assaggiare. Perché voglio assaggiare quello di Euro Spin. L'ha pagato 9,95 euro. Poi, sempre Euro Spin, lo facciamo Conad, pensavamo che la carne costava un po' di meno a Discount, ma non costa poco, costa super giù come Conad. Questo qui 4,99 euro, 5 euro. Qua abbiamo trovato 4,68 euro la lette, il pollo a barbecue, quello lì. Poi, ho comprato la carne, 5,41 euro, carne macinata. In altro, sempre barbecue, 3 euro, 4,36 euro. Vedete, non, perciò costa come negozio normale, per chi compri non di scout. Questo costa 7,83 euro. Questo costa 7,74 euro. Questo 5,02 euro. Questo 4,12 euro. Euro Spin, basta, mi saverò. Allora, Euro Spin, abbiamo speso 44,55 euro. Però, non c'è tanto risparmio. Il po' più costa come l'abbiamo pagato di là. Questo Rachele ha comprato questo qua. Pane. L'abbiamo pagato, no? Sì, questo. Pane. Sì. E poi l'hamburger. E qua ha speso 6 euro e 3 centesimi. Sto mettendo tutti i scondini qua. Dove ho buttato via. E l'ultima butta ci siamo la carne, no. L'ultima butta allora ci ho comprato il pane, il baguette 81 centesimi. Ho comprato questo qua per Rachele per fare parole cruciale che sono 3. Vedo? 3. poi ho comprato l'insalata che altro mi mangio messa l'insalata? Non vedo. Ho comprato i pomodori poi ho comprato questi qua il budino uno due tre e quattro e poi l'ultima no l'ultima butta l'olta questo qua alla pesca e questi ci hanno finito stritolati i snack al mini snack salati vabbè vediamo lo scontrino 41 euro e 90 ah beh abbiamo comprato pure pellet 5 pellet 5 pack di pellet e abbiamo il pellet costava costava dove sta scritto vabbè dipende abbiamo speso 26 euro e abbiamo speso 41 euro e 90 adesso vi posso lasciare perché è fine questo video e ciao a prossimo video